Inaugurata ieri la nuova sede della Proloco di Morbegno. È il complesso di Sant'Antonio ad ospitare il nuovo ufficio del Sodalizio guidato da Luca della Sale, messo a disposizione dall'amministrazione comunale e allestito in estate a tempo di record dai volontari. Sede subito presa d'assalto dai morbeniesi visto che ieri è partita la distribuzione ai cittadini di carta Morbegno, la tessera con cui si potrà avere un rimborso sugli acquisti effettuati nei negozi aderenti all'iniziativa. La Proloco negli ultimi tempi sta entrando sempre più nel vivo delle attività della città. In questo momento la Proloco è impegnata su due fronti principalmente, quello di Carta Morbegno che è un progetto nato in collaborazione con Promor e su stimolo di Promor in risposta alla loro disponibilità ad aiutare i cittadini di Morbegno e aiutare il comparto commerciale. Contemporaneamente è partito l'altro progetto ovvero Degusta Morbegno che è un'iniziativa che partirà con questo fine settimana ed impegnerà i prossimi tre weekend nella città di Morbegno. Dietro questa questa iniziativa c'è proprio il gruppo organizzativo dei volontari della Proloco. Si è formata subito un po' di coda per il ritiro gratuito di Carta Morbegno che sarà utilizzabile a partire dal primo ottobre. Ci ha piacevolmente sorpresi vedere tante persone in fila per ritirare questa card. Da un lato ci dimostra che comunque la comunicazione che abbiamo fatto è stata efficace e dall'altro ci conferma che l'esigenza di uno strumento che aiuti il cittadino e il commerciante era sentito. In questa mattinata essendo lunedì mattina ovviamente abbiamo tendenzialmente pensionati perché hanno diciamo che lunedì mattina hanno un pochettino più tempo però pensiamo che nei prossimi giorni poi ci siano tutte tutte le famiglie. Un'iniziativa quella della card con cui Fondazione Promor, l'Unione Commercianti e la Proloco intendono stimolare i cittadini a riscoprire i negozi di vicinato riconoscendo in essi un ruolo attivo nel tessuto non solo economico ma anche sociale di Morbegno. Grazie alla carta i cittadini vedranno riaccreditarsi il 10 per cento della spesa sostenuta. La sede della Proloco nella prima fase rimarrà aperta da lunedì a sabato. La sede sarà aperta in questo primo periodo da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Saremo aperti anche il sabato in occasione di questi primi weekend dedicati all'iniziativa di Augusta Morbegno. Sarà un'iniziativa di grande richiamo e quindi in quel momento ci sarà magari qualche difficoltà nel ritirare la testera però sarà sempre possibile qui alla nostra sede. Grazie a tutti.